Al via Paternò gli interventi dell'azienda idrica cittadina, in questa fase si sta sviluppando una mappatura dell'intera condotta, a breve scatterà anche la sostituzione dei contatori. Inaugurazione di tre mezzi, incontro sui beni sequestrati, domani a Santa Maria di Licodia in occasione dei 37 anni della misericordia, interverrà il prefetto Librizi. Stop all'attività chirurgica e in emergenza all'ospedale di Biancavilla, si fermano gli anestesisti, a sopperire sarà all'ospedale di Paternò. Arrestata a Bronte un 39enne per maltrattamento in famiglia, l'uomo in stato di ubriachezza ha minacciato di morte i genitori. Ad Adrano la polizia ha arrestato un 43enne per detenzione e spaccio di droga, segnalata alla prefettura un'altra persona per uso di sostanze stupefacenti. Nuova incursione nelle scuole di Adrano ai danni di un distributore automatico di merendine e bibite, ancora nel mirino le macchinette dell'Istituto Comprensivo Bascetta. Ricorre oggi la giornata mondiale della sicurezza e salute sul lavoro Filca Cisle Sicilia e Filca Cisle Catania, dati allarmanti, serve potenziare uffici ispettivi e formazione. Le aziende siciliane che hanno subito danni per il maltempo dovranno comunicare le richieste al Fondo Mutualistico Nazionale Agricat. Lo stabilisce un decreto del Ministero dell'Agricoltura. Domenica 30 aprile Ragalna ricorderà il quarantesimo anniversario dell'arresto della colata lavica a Monte Marzo, in processione le reliquie di Santa Barbara. Nuova edizione del nostro telegiornale, bentrovati a Ciac News. A Paternò al via gli interventi dell'azienda idrica cittadina. In questa fase si sta sviluppando una mappatura dell'intera condotta. A breve scatterà pure la sostituzione dei contatori. Approfondiamo nel nostro primo contributo filmato. Via Machiavelli a Paternò. Questa mattina proseguono gli interventi che sta effettuando l'AMA. Si tratta di mappare la rete idrica cittadina. È un intervento importantissimo per capire come funziona la rete idrica e poi successivamente stabilire anche dove ci sono le perdite. Un intervento del quale ci parla il direttore dell'AMA, Francesco Freni. Questo progetto che è finanziato in uno alla SOGIP perché 18 milioni sono in raggruppamento temporaneo fra la SOGIP che cura il servizio di diritto integrato per il comune di Acireale e l'AMA che cura il servizio di diritto integrato per il comune di Paternò. Il lente finanziatore è il Ministero dell'Ambiente tramite un programma che si chiama ReactU. Sostanzialmente si tratta di fornire dei dati di base che possono essere utili ai fini del finanziamento di singoli lotti per la sostituzione di tratti di rete idrica o bisoleti o che presentano notevoli perdite e quindi dispendio della risorsa primaria che è l'acqua potabile. Questo progetto, chiamiamo conoscenza, è costituito da più fasi. La prima fase è quella che in atto si vede sostanzialmente la ricerca delle tubazioni, creare un sito ovviamente tutto georeferenziato dove vengono riportate queste tubazioni con diametro, con tipologia del materiale. Successivamente ci saranno delle fasi più specialistiche che è la distrettualizzazione della rete e della modellazione matematica sempre della rete. Quindi in questo momento siamo in questa prima fase dove si sta appunto studiando la rete idrica cittadina. C'è anche una fase che vuoi partire così subito che è anche quella di sostituzione dei contatori dell'acqua. Sì, un'altra fase è sostanzialmente quella della sostituzione dei contatori dell'acqua con dei contatori che sono tecnologicamente più evoluti, che si chiamano smart meter. Questa dovrebbe partire metà del mese di maggio. Noi sostituiremo a Paternò 11.000 contatori. Questi contatori sostanzialmente ci consentiranno di avere la lettura in tempo reale negli uffici e ci consentiranno altresì, altra cosa molto importante, di poter chiudere la mediante dell'elettrovalvole e dell'erogazione ai cittadini morosi. Fermo restando che ci sono dei cittadini che per bonus idrico o quant'altro l'acqua non si ci può chiudere e quindi dovremmo andare a calcolare il bisogno minimo da dover garantire anche se risultano essere morosi. Quindi in questa fase si studia la rete, si spera poi in futuri finanziamenti per poter poi riparare quei tratti di condotta che sono faticenti e garantire l'acqua ai cittadini tutta la giornata. Ricordiamo in zona Scala Vecchia ancora questo non avviene. Esattamente. Il progetto Piano Studio tende soprattutto a questo qua. Individuare esattamente quali sono i tratti di tubazione, se non addirittura le maglie, la rete, dove ci sono più perdite e con finanziamenti successivi che comunque già sono in itinere. Ci sono in itinere, abbiamo presentato i progetti, studi di fattibilità, non progetti esecutivi, che dovranno essere finanziati e questi sono a valere sul PNRR. Trasferiamoci adesso a Santa Maria di Licodia dove verranno inaugurati domani pomeriggio tre mezzi della misericordia. Si tratta di un pick-up acquistato anche con fondi privati e due mezzi sequestrati alla criminalità. Per l'occasione sui beni sequestrati si terrà un incontro nell'Aula Consigliare Licodiese nel quale fra gli altri interverrà il prefetto di Catania. Sentiamo. Aprile 1986, aprile 2023, la misericordia di Santa Maria di Licodia spegne le 37 candeline e per l'occasione promuove un incontro su sistema e potenzialità dei beni confiscati alla criminalità in relazione all'utilizzo nel volontariato e nella protezione civile che vuole essere un momento di confronto fra diversi attori. Il programma prevede gli interventi del prefetto di Catania, Maria Carmela Librizi, del direttore generale del Dipartimento di Protezione Civile, Salvo Cocina, del presidente del Comitato delle Misericordie di Catania, Alfredo Di Stefano, del presidente del CSVE, Salvo Raffa, del presidente dell'Associazione Ultreia Pedara, Annalisa Schillaci. Per l'occasione la misericordia licodiese inaugurerà un pick-up acquistato in parte con il contributo delle aziende del territorio e due mezzi confiscati alle cosche mafiose e ad essa affidati. Il convegno si inserisce all'interno di quello che è il 37esimo anniversario della fondazione della misericordia di Santa Maria di Licodia, avvenuta nell'aprile del 1986. Abbiamo voluto unire questa ricorrenza con l'assegnazione da parte dell'Ufficio Nazionale dei Beni Conviscati alla Criminalità Organizzata di due automezzi che saranno a disposizione della popolazione nei servizi istituzionali che realizziamo, che portiamo avanti quotidianamente e a questo associamo anche l'inaugurazione di un pick-up di protezione civile attraverso il quale è stato possibile il suo acquisto grazie a dei contributi da parte di aziende del territorio e anche a un piccolo contributo che proviene dall'ARS, dalla Regione Sicilia. Questo qua domani sarà appunto un momento per ripresentarci nuovamente alla cittadinanza dopo l'inaugurazione di due ambulanze che sono state inaugurate lo scorso anno per dire alla cittadinanza che la misericordia sì è principalmente attività sanitaria ma fra le attività che porta avanti c'è anche quello della protezione civile in sinergia con il Dipartimento regionale di protezione civile e quindi stiamo cercando di ampliare i servizi offerti anche sotto questo punto di vista. Sarà l'occasione di discutere anche con Sua Eccellenza il Prefetto del riutilizzo dei beni confiscati. Sicuramente, fino a ieri due veicoli che venivano utilizzati dalla criminalità organizzata sul Catanese e sul Palermitano che da domani in realtà diventeranno uno strumento utile per la nostra associazione di volontariato e che quindi cambiano la loro mission e diventano strumento di legalità. Stop all'attività chirurgica in emergenza all'ospedale di Biancavilla. Si fermano gli anestesisti a sopperire. Sarà l'ospedale di Paternò. Sentiamo. Si ferma l'attività chirurgica ordinaria in urgenza all'ospedale Maria Santissima Adolorata di Biancavilla con il presidio ospedaliero che da qualche giorno garantisce solo l'attività in emergenza. Lo stop è stato determinato dalla decisione del gruppo degli anestesisti, nove i medici in attivo, di fermarsi per aver raggiunto il numero massimo di ore, 48 complessivamente al mese, per quelle che vengono definite prestazioni aggiuntive. Per sopperire al problema e garantire il diritto alla salute e all'utenza, il direttore del Dipartimento Chirurgico dell'ASPA di Catania, Giuseppe Reina, nonché primario delle due unità operative di chirurgia degli ospedali di Paternò e Biancavilla, come concordato con la direzione strategica dell'ASPA di Catania, ha deciso di trasferire tutta l'attività chirurgica ordinaria e in urgenza al Santissimo Salvatore di Paternò. Da evidenziare che qui il gruppo di anestesisti è composto da sei medici, ma l'attivo in servizio sono in cinque che garantiscono H24 sette giorni su sette tutta l'attività richiesta. Non si comprende perché una diversa scelta, anche se alla base c'è una carenza cronica di medici. I concorsi che l'ASPA sta bandendo, si sa già, non saranno sufficienti. Occorre una riforma nazionale con un'apertura dei numeri chiusi delle facoltà di medicina che tarda ad arrivare. Noi come cittadinanza attiva siamo stati informati ieri di questa situazione e subito abbiamo cercato di capire cosa sta succedendo. Dalle informazioni che noi abbiamo il problema principale sono gli anestesisti, ma questa è una carenza cronica che c'è in quasi tutti i piccoli ospedali. Quindi gli anestesisti nei piccoli ospedali lavorano con le prestazioni aggiuntive. Le prestazioni aggiuntive sarebbero un orario extra, quello ordinario. Per cui raggiunto un certo numero di ore, sarebbero 48 ore, non possono più eseguire le prestazioni aggiuntive. E per questo è nata questa problematica. Quindi secondo noi bisogna garantire la salute dei cittadini, che noi questo problema non l'abbiamo riscontrato. Noi abbiamo 20 sportelle di cittadinanza attiva e in tutti i 20 sportelli ci sono giunte queste lamentele. Ecco, ma come si può risolvere il problema? L'ASPA ha bandito dei concorsi, però i medici sono pochi. L'ASPA ci ha informato che ci sono tanti concorsi aperti, sia quello degli anestesisti, quello dei medici di pronto soccorso. Però il problema è uno, su 48 posti banditi se ne presentano 18 medici, fanno 18 domande. Poi bisogna vedere quando si ne presenteranno, quando ci saranno gli esami. Quindi diciamo che è un problema, noi già questo problema abbiamo discusso, quello dell'emergenza, urgenza, l'abbiamo discusso già in una conferenza dei sindaci, dove bisognerebbe fare rete con tutte le aziende ospedaliere della provincia di Catania. Per cui solo così si potrebbe in qualche modo risolvere il problema. Se no bisognerebbe aumentare il numero delle ore delle prestazioni aggiuntive, cosa che mi sembra un po' difficile perché un medico non può fare più di 11 ore giornaliere. Adesso occupiamoci di cronaca, maltrattamenti in famiglia che continuavano da un anno. Con questa accusa i carabinieri hanno arrestato a Bronte un 39enne. L'uomo, in stato di ubriachiezza, ha minacciato di morte gli anziani genitori costretti a denunciare il figlio. I particolari di questa turpe vicenda nel prossimo servizio. I carabinieri della stazione di Bronte hanno arrestato in flagranza un 39enne del posto per maltrattamenti in famiglia. Nella circostanza i militari sono intervenuti tempestivamente in via Cardinale De Luca dopo una richiesta di aiuto per un'aggressione in corso ai danni di due anziani genitori. Sopraggiunti sul posto, i militari dell'arma hanno trovato la porta d'ingresso aperta e hanno constatato la presenza in casa del 39enne ed accanto a lui visibilmente agitato l'anziano padre. Dalla ricostruzione dell'accaduto emerso che, all'origine delle frequenti liti familiari, ci sarebbe l'intenzione del padre di mandare via di casa il 39enne, circostanza appresa dai carabinieri dei genitori, i quali hanno raccontato che prima del loro intervento il figlio era rientrato a casa ancora una volta ubriaco e si era rinchiuso in camera sua. Successivamente, verso l'ora di pranzo, il padre avrebbe chiamato il figlio per pranzare e avendo constatato che era nuovamente sotto l'effetto di sostanze alcoliche, lo avrebbe redarguito sul suo comportamento. Ne sarebbero scaturiti un violento litigio verbale e un'aggressione fisica, nel corso dei quali il 39enne avrebbe minacciato più volte i genitori. Vi uccido, ti ammazzo e rivolgendo, inoltre, nei loro confronti parole offensive. Le vittime, considerata l'aggressività manifestata dal figlio e timorosi per la loro incolumità, si sarebbero barricati in cucina chiudendo a chiave la porta, ma il figlio nel frattempo avrebbe preso la cassetta degli attrezzi e li minacciava che avrebbe aperto la porta scassinandola e continuando a minacciarli di morte utilizzando potenzialmente alcuni degli attrezzi. Al termine del sopralluogo effettuato dai militari dell'arma all'interno dell'abitazione è stato effettivamente trovato un secchiello con degli attrezzi da lavoro davanti alla porta della cucina, da dove i genitori uscivano solo al momento dell'arrivo dei carabinieri, alla presenza dei quali il 39enne è anche tentato di aggredire fisicamente il padre. L'episodio sarebbe stato solo uno tra i tanti che si sarebbero verificati con cadenza bimensile a partire dal 2022 e che avrebbero avuto solitamente come innesco lo stato di ubriachezza del 39enne. I carabinieri hanno sottoposto l'uomo agli arresti domiciliari in un'abitazione diversa da quella dei genitori, su disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto. E ad Adrano la polizia ha arrestato un 43enne per detenzione e spaccio di droga. Un'altra persona è stata segnalata alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti. Agenti del commissariato di Adrano hanno arrestato un uomo di 43 anni per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nella serata di ieri, nel corso di mirati servizi antidroga predisposti dal commissariato di Adrano, gli operatori della squadra volante notavano in via Frassino due uomini nell'atto di scambiarsi qualcosa. Le due persone alla vista della volante fuggivano immediatamente, costrigendo gli agenti a un inseguimento a piedi, a conclusione del quale uno di essi veniva raggiunto e bloccato. Proprio nel momento in cui veniva fermato, l'uomo provava a disfarsi di un involucro in cielo, lanciandolo per strada, ma l'oggetto veniva recuperato dagli agenti, i quali accertavano che conteneva eroina, droga che la persona fermata dichiarava di aver acquistato poco prima per uso personale. Per tale ragione l'uomo verrà segnalato alla Prefettura di Catania, che provvederà a irrogare le sanzioni amministrative previste. Terminata l'attività, gli uomini della volante avviavano le ricerche per individuare l'uomo che aveva ceduto l'eroina, riuscendo ad accertarne l'identità e raggiungendolo presso la sua abitazione, dove avviavano un'accurata perquisizione alla ricerca di altro stupefacente. L'operazione di polizia giudiziaria conduceva a un risultato positivo. Infatti gli agenti rinvenivano un bilancino di precisione e altra eroina. Venivano rinvenute anche banconote, provento dell'attività di spaccio e ritagli di celofan per confezionare le dosi da spacciare. Avuto la certezza del commercio illegale, i poliziotti arrestavano il titolare dell'abitazione, peraltro già noto per i suoi precedenti. Dopo le rituali operazioni di fotosegnalamento, l'arrestato veniva posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida e del giudizio direttissimo. Restiamo ad Adrano, dove si registrano nuove incursioni e danni di distributori automatici di merendine bibite. Ancora nel mirino le macchinette automatiche dell'Istituto Comprensivo Bascetta. Sul posto sono state anche rinvenute vistose macchie di sangue. Probabilmente i malviventi si sono feriti durante il furto. Il servizio. Ad Adrano non c'è pace per i distributori automatici di merendine bibite collocate all'interno degli istituti scolastici della città. La notte scorsa l'ennesima incursione è di nuovo ai danni dell'Istituto Comprensivo Bascetta sotto attacco di balordi nel giro di poche settimane. Ma sono una decina gli episodi del genere registrati nelle ultime settimane ai danni delle strutture scolastiche di Adrano e non solo. Nel mirino sempre macchinette del caffè e di merendine. La dei seriali che stanno creando un certo allarme in città. L'ultimo episodio verificatosi al Bascetta ha lasciato il segno e creato ancora più sconcerto nella comunità danita perché sul posto sono state rinvenute vistose macchie di sangue. Probabilmente i malviventi si sono feriti durante le operazioni di scasso del dispositivo che eroga brio, scine e bibite. Tutto questo per portare via poche decine di euro che si trovavano nel cassettino della macchinetta. Lo scorso 14 aprile i ladri avevano preso di mira il distributore della stessa scuola collocato al piandereno. La notte scorsa hanno devastato quello che era ancora in funzione al primo piano. Per portare via pochi spiccioli dal Bascetta, i malviventi hanno faticato non poco mettendo in atto un'azione violenta come se stessero attaccando un ricco bunker. Infatti, prima di salire al primo piano della scuola, i delinquenti si sono introdotti, forse scavalcando il cancello da via Duca di Mister Bianco. Poi sono entrati in alcune aule disposte lungo il corridoio esterno. Quindi si sono diretti in un'altra ala dell'edificio scolastico, ma per entrare hanno forzato un altro cancello e un'altra porta. Giunti al primo piano, probabilmente muniti di arnesi, i delinquenti hanno scaldinato la macchinetta che era ingabbiata in una struttura di ferro. Come detto, si sono feriti, come mostra, il sangue per terra vicino il distributore, ma anche lungo le scale, tracce di sangue in tanti gradini lasciate durante la fuga. Sul posto stamattina gli agenti del commissariato di polizia di Adrano, che hanno effettuato i rilievi, e avviato le indagini. Ma non si capisce ancora il perché di tanto accanimento alle strutture della scuola. Queste persone sono disposte anche a ferirsi, a rischiare la galera, a spaccare tutto, pur di portare via 5 euro. Negli ultimi mesi hanno agito una decina di volte in diverse scuole e non solo di Adrano. Tutto questo inquieta e sconcerta un'intera comunità e pone delle domande. Ma cosa c'è dietro questi miseri furti? Nella giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro, la Filca CISL Sicilia e Catania, in un comunicato congiunto, sottolineano la necessità di potenziare gli uffici ispettivi e la formazione. Sentiamone di più. Prevenzione, informazione e azioni concrete per tutelare i lavoratori. Ad oggi, giorno in cui ricorre la giornata mondiale della sicurezza e salute sul lavoro, istituita nel 2003 dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, sono ancora troppi gli uomini e le donne che si infortunano, si ammalano e nel peggiore dei casi perdono la vita esercitando una professione proprio a causa della mancata osservazione delle norme di tutela e sicurezza. Catania, riferiscono Filca CISL Sicilia e Filca CISL Catania, in un comunicato congiunto, oltre ad essere la provincia con il maggior numero di decessi sul lavoro, registra anche un preoccupante incremento del 23% di infortuni sul lavoro rispetto all'anno precedente. Un dato che fa riflettere e sottolinea la necessità di azioni concrete per combattere questo fenomeno, azioni che il sindacato identifica nel potenziamento dei controlli e degli uffici ispettivi, assumendo più ispettori e medici del lavoro, ma anche nella prevenzione e informazione. Prevenzione, informazione e potenziamento dei controlli devono essere però anelli di una stessa catena. Per vincere questa sfida, si legge in conclusione nella nota congiunta, serve un impegno condiviso e coordinato tra parti sociali, datoriali e istituzioni locali e regionali, nonché la collaborazione attiva di enti di controllo come INAIL, Ispettorato del Lavoro e ASL. Occupiamoci di agricoltura. Cambia il modo di comunicare i danni da calamità naturale. Gli agricoltori che hanno subito danni per il maltempo dovranno comunicare le richieste al Fondo Mutualistico Nazionale Agricat. Lo stabilisce un decreto del Ministero dell'Agricoltura. Sentiamo i particolari. Le aziende siciliane che hanno subito danni per il maltempo adesso dovranno comunicare le richieste per gli aiuti al Fondo Mutualistico Nazionale Agricat. Lo stabilisce un decreto del Ministero dell'Agricoltura del 5 aprile scorso, che ha approvato il regolamento del Fondo per la copertura dei danni da catastrofi meteoclimatiche alle produzioni agricole come alluvioni, gelo, obbrina e siccità. L'assessorato dell'Agricoltura della regione siciliana sottolinea che la circolare ministeriale del 6 aprile 2023 stabilisce le modalità per presentare le denunce relative ai danni subiti e accedere pertanto alla copertura prevista da Agricat, della quale possono usufruire tutte le aziende agricole che hanno titolo a percepire pagamenti diretti in seguito a eventi atmosferici calamitosi. In relazione agli eventi verificatisi in Sicilia nel corso dell'alluvione dell'8-9-10 febbraio scorsi, anche gli agricoltori siciliani che hanno subito danni alle produzioni dovranno comunicarlo allo stesso fondo, in quanto le segnalazioni già effettuate al Dipartimento regionale dell'Agricoltura non potranno più essere considerate. Rimangono valide quelle per altri tipi di danni. Ragalna ricorderà domenica prossima il quarantesimo anniversario dell'arresto della colata lavica in prossimità di Monte Marzo. Evento straordinario avvenuto il giorno dopo una processione del popolo e del clero con il busto reliquiario di Santa Barbara sui luoghi minacciati dalla lava. Sentiamo. Sono trascorsi i 40 anni dall'eruzione dell'Etna che per poco più di quattro mesi interessò il versante meridionale del vulcano, un evento catastrofico perché portò alla distruzione di ristoranti, infrastrutture turistiche, diverse abitazioni per arginare il quale vennero effettuati i primi tentativi di deviare una colata lavica con l'utilizzo di esplosivi e con opere di contenimento in terra. L'eruzione minacciò tra gli altri comuni anche Ragalna. Fu in quell'occasione che Ragalnesi chiesero aiuto a Santa Barbara. Il busto reliquiario della Santa proveniente da Paternò venne portato in processione dalla popolazione del clero nei luoghi minacciati dalla lava. Il giorno successivo la colata si arrestò in prossimità della località Monte Marzo. Senza Barbara aiutaci! La nostra popolazione dalla irrompente lava che seminava distruzione e panico così anche oggi non dimenticare di noi che vogliamo essere i tuoi fedeli devoti. Santa Barbara prega per noi! Un evento straordinario che Ragalna ricorderà domenica 30 aprile in occasione del quarantesimo anniversario. Alle ore 10.30 il busto reliquiario di Santa Barbara verrà accolto nella piazza Le, intitolata, poi alle ore 11, Monsignor Luigi Renna, arcivescovo metropolita di Catania, presiderà la solenne celebrazione eucaristica. Terminata la celebrazione, partirà un corteo con il busto reliquiario della Santa che si fermerà all'edicola votiva commemorativa di Monte Marzo. Lì verrà recitata la preghiera di ringraziamento ed effettuata la benedizione delle città di Ragalna e Paternò. E con questa notizia da Ragalna ci fermiamo qui per il momento, ma vi ricordo che potete continuare a seguire la nostra informazione su ciacctelesud.com oppure sui social Facebook ed Instagram e ricevere tutti gli aggiornamenti sul nostro canale Telegram. Infine per i vostri comunicati stampa potete utilizzare la mail redazione chiocciolacciactelesud.com E proprio tutto, buon proseguimento di serata con i programmi di Ciac Telesud. Grazie per la visione!